La guida Canyon la può fare chiunque? Assolutamente sì, qualsiasi cittadino italiano ma anche europeo può fare la guida Canyon. Dal 2013 con la legge sulla liberalizzazione sulle professioni è diventata una figura professionale ben precisa e ci sono dei corsi, noi come Scuola Nazionale delle Guide Canyon IGC facciamo corsi per formare le guide. Naturalmente non bisogna partire da zero, nel momento in cui si vuole fare la guida sarebbe bene avere un minimo di esperienza sarebbe bene fare dei corsi, avere un po' di canyon alle spalle soprattutto in canyon di diversa natura per poi entrare in formazione per diventare guida canyon.